Se negli ultimi giorni l'attenzione generale è stata dedicata alla sicurezza degli edifici scolastici per l'imminente riapertura delle scuole, dopo il sisma del 24 agosto scorso, suscitando anche forte preoccupazioni per molti genitori, il Comune di Chieti mette in chiaro tutte le attività portate avanti dal 2009 ad oggi sul fronte prevenzione e messa in sicurezza. Il Comune ha speso un milione di euro in attività che hanno coinvolto tecnici ed esperti per mappare lo stato di salute di più di 30 edifici. Il più importante degli investimenti, cioè quello che doveva dirci in che stato di salute fossero le nostre scuole, lo abbiamo fatto noi dal 2009 in poi e valgono un milione e centomila euro di studi di vulnerabilità e grazie a questo che oggi noi sappiamo è lo stato in cui si trovano le nostre scuole. E da quello partiamo per dire innanzitutto che le nostre scuole e quelle aperte sono agibili, due le abbiamo chiuse perché non agibili e sulla scorta degli studi di vulnerabilità sismica abbiamo iniziato gli interventi. La montare degli investimenti adoperati per le scuole è di quasi 10 milioni di euro, 32 edifici scolastici che comprendono asili nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, secondaria di primo grado per un totale di 4.900 alunni. La buona notizia è che non ci saranno variazioni sull'avvio dell'anno, tranne per una scuola che da pochi giorni ha concluso i lavori di adeguamento sismico. Nessuna variazione se non lo slittamento di soli tre giorni per la primaria e per la scuola dell'infanzia di Via Lanciano dove abbiamo fatto lavori di miglioramento e adeguamento sismico e dove sono in corso i lavori di sistemazione e di ritrasferimento degli arredi che si trovavano presso un'altra scuola. Grazie. 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 Grazie.